Amici buonasera, il momento è grave, la situazione è piuttosto precaria, le cancellerie di tutta l'Europa e del mondo sono in fibrillazione, voi direte per cosa? Per il tifone? Per il tornado? Per i reni? Ma no, quello gli americani sanno ben risolverlo, sono abituati a ben altre lotte. No, domani avremo ad Arcore uno storico incontro tra gli unici due personaggi italiani a livello di statista, abbiamo il senatore Bossi nel frattempo caduto dal letto che incontra l'onorevole Berlusconi nel frattempo crollato nei sondaggi, questi due personaggi dovranno decidere le sorti dell'Italia e l'Italia essendo un macrocosmo e chiaramente le sorti dell'Italia dovranno poi condizionare quelli dell'Europa e quindi quelli del mondo intero, per cui questo incontro sarà veramente di natura storica, in un viandardino dell'incontro di Teano con Garibaldi e l'obbedisco, quella è roba da barzelletta, questa è una cosa che si riverberà nel tempo e nel futuro di tutta la popolazione mondiale. Io domando e domanda Berlusconi soprattutto, io gli do ragione, cosa ci fa un Parlamento costituito da 630 deputati e 315 senatori più una pindicina di senatori a vita? Quando per prendere queste decisioni ne bastano due, due sole persone che tra l'altro sono alleati, per cui allora l'opposizione non serve a niente perché tanto sono tutti comunisti per cui lasciamo le perdere. Quindi questi due possono fare e decidere tutto ciò che vogliono, modifichiamo quindi a loro favore, nell'interesse dell'Italia, nell'interesse del mondo, la Costituzione e mettiamo questi due voti e basta, loro contano e loro comandano e loro decideranno, tanto sappiamo perfettamente che specialmente Berlusconi il cui altruismo è noto, lo fa esclusivamente, direi, dico e sottolino, esclusivamente nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Il Bossi che è caduto dal letto e Berlusconi che è crollato nei sondaggi sapranno bene come risollevare le sorti dell'Italia e degli italiani. Arrivederci.